Tutto, a sentire qualche contastrozza, la potea girare piaccia. Questo è il dito che si sente di più già da domandare fuori imprenditore e sottogliere alla fine della sonda d'inverno. Una Val di Fascia ha spartito in due, con Moina e il Centro Fascia, che su me ha ripadito di più la mancanza dei ghiacchi italiani. E la Val di Sora che ha tenuto un pozzo ai numeri di un passaggio grazie a Russi, Polacchi e Foresci. Russi che ha passato via il numero della famiglia Taglienes, che ha prodotto per mettere la settimana a Bienciate e Fascia. Questo inverno è stato il 70% di Foresci e il 30% di Taglienes. Già credo che spera che questo inverno fosse il 30% di Foresci e il 70% di Taglienes, perché è molto importante guardare il mercato, pietare un'aria sul mercato straniero, ma non sbagliare mai il mercato italiano dei nostri gente, dei nostri italiani. E non c'è bene che sia la concetta per gli impianci portamonte e per il buziamento che l'estate tutt'inverno sulla piste da schi, sulla Itecianacei, i nostri assomigli a essere belli e buoni contenci. L'estate è stato veramente un fine stagione, la gente è stata contenta, le ruole a Neyfenci, adesso è stata una giornata strepitosa, ho un po' di scorsi dei maestri di schi, insomma si finisce secondo me alla grande. Situazione mingola più grieva, giù per la Vallola, che impiance portamonte dei Buffaure, che prea sempre di più il collegamento dei Delba con Col dei Rossi, a coniuffere i conti con il Meis de Merz dal buon Miser che ha roinato una perte della Sazona. Una delle prospettive che si rispettano al più presto che le mesole è il collegamento con l'autaval, con il Col dei Rossi, che a poco cita sicuramente la società Buffaure, porterà a casa dei bisogni risultati che così la farà sicuramente più soli a se tirare insieme ai conti alla fine della stagione. Farsi in piange portamonte costa, e lo sa bene, sull'usia o la che la società del presidente Umberto Anzelini ha investito 40 milioni di euro per gli ultimi decenni. Ma se lezza che non va, le appuntino chiede l'usia che dal venere biglietta addombra che stanno in cui hanno 2% del manco rispetto all'anno passato. Non è finito l'estate buono, nel marzo abbiamo un cento di noi che è il calo, che è l'estate, che ha delle presenze. Soprattutto da segnalare che la mancanza di persone con il numero di manco delle presenze delle italienze è buono di succomare e coprire, con la presenza dei stranieri e sono abbastanza soddisfatti. ma per una sezione che è sera, per i fassenti che vivono del turismo, è ora di pisare le vacanze. E anche bene che l'immupe paese, peggio sarà chi che rinuncia, e la prenotazione delle agenzie è già molto buona. Crociera per chi che si è maridea, e ora di ciò temere a se sciudere la lausura. Sa che, girate l'Australia, entri ai Caraibi, alle Canarie, nella Polinesia senza abbader massa al costo, e entri a pede al bel darà anche neie al taquin, perché la mettes più chiarides semmi essere anche quelle mancociare dolce. RELAX, quello in primis, quando la stagione dice mare, ecco, mare e chowt, e dopo do, ecco, magari già abbina il soggiorno mare a un tour, o comunque se toglie la macchina a noleggio a tutti gli Stati Uniti, poi se fasse un bel tour in Oriente, poi va a fare un safari in Sud Africa, o in Namibia, ecco, in Kenya, Zanzibaren, c'è le moglie richieste. E se no chi che ve il veramente low cost partire, comunque sta a fare una bella vacanza, un bel Mar Rosso va sempre bene, ecco.